inizio a registrare. Stiamo registrando, quindi partiamo. Vai. Vado. Sono Anna Quistapace, presidente del Green, il gruppo dei redattori iconografici nazionale. Il Green è un'associazione che riunisce eh foto editor, professionisti e operatori che si occupano di fotografia all'interno di giornali, redazioni, siti, libri e agenzie. Nasce nel 2002, è stato fondato nel 2002 ed è un punto di, vuole essere un punto di riferimento per coloro che si occupano di fotografia, creando occasioni di incontro, di scambio, aggiornamento culturale e anche professionale. Infatti quando è nato il Green sono stati organizzati anche diverse ehm eh diversi incontri culturali, tavoli di lavoro per eh dibattere sul tema della professione del foto editor anche a livello sindacale e poi anche sul tema della della fotografia d'autore. Dal duemilaquattro il Green ha istituito un premio fotografico eh il premio Ponchielli in ricordo del primo foto editor italiano. Quest'anno siamo alla diciassettesima edizione del premio, un premio aperto a fotografi italiani o residenti in Italia eh per presentare un progetto fotografico eh pensato per una pubblicazione su un sito, un libro eh o un giornale. E il bando tra l'altro è disponibile già sul nostro sito fotoeditors.it. Tra le diverse iniziative che abbiamo segnalo ehm Archivi Aperti, un'iniziativa eh organizzata da Rete Fotografia che eh ha per obiettivo quello di aprire le porte di eh patrimoni fotografici quindi archivi presenti a Milano ma non solo. Ehm passo la parola adesso a Giovanna che racconterà invece chi sono i membri del Green e come si può entrare a far parte di questa associazione. I membri, buongiorno, i membri del Green eh sono stati inizialmente le persone come diceva prima Anna Questa Pace, le persone che lavoravano all'interno dei giornali sia il foto editor in senso stretto che ricercatori iconografici ma anche persone che lavoravano in agenzie fotografiche o giornalisti ehm abbiamo avuto anche in questi casi giornalisti che appassionati di fotografia pur non avendo all'interno del loro giornale una specifica competenza legata alla fotografia. Entrare a far parte del Green bastava chiederle una cosa molto semplice eh bastava che ci fosse una comunità di intenti che era quello di essere e di essere consapevoli di essere una sorta di quello che anche nel nel testo di presentazione del nostro nuovo presidente è stato ci siamo autodefinite traghettatori ossia persone che eh sono a contatto dei fotografi e della fotografia e che si pongono come obiettivo di trasmettere di essere un un elemento di tradunione eh tra due mondi diversi il mondo della produzione e il mondo della fruizione. Quindi eh figure professionali che in questa fase complessa si sono un pochino eh cancellate arricchite cambiate quindi adesso siamo in un momento dove essere membri del Green io credo e vorrei che il presidente attuale e il presidente uscente mi confortassero chiunque abbia voglia di lavorare con la fotografia in un modo da potenziarne la conoscenza e la diffusione può entrare a far parte del Green. E darei a questo punto la parola al nostro amato ex presidente Maria Teresa Cerratelli. Grazie. Allora che cos'è ehm effettivamente la fotografia per il Green? Beh allora innanzitutto la foto il Green è sono i foto editor quindi la fotografia per il foto editor è determinante la fotografia è lo strumento di lavoro la fotografia è la nostra vita professionale. Quindi diciamo che questo funziona nelle agenzie nei giornali nei libri come oggi più di recente nel sul web. Eh vorrei citare il primo foto editor internazionale il più famoso che era John Godfrey Morris che diceva che il foto editor è il voyeur dei voyeur. È la persona che vede tutto quello che hanno visto i fotografi. È l'involontario manipolatore del gusto, il custode non ufficiale della moralità, lo scopritore di talenti, il complice della celebrità. Ecco come foto editor italiano quindi per darvi anche un aggancio a cos'è la fotografia e il foto editor cito anch'io a Milcare Pompielli che a cui abbiamo ehm intestato il nostro premio fotografico e per darvi un'idea di come è importante la fotografia sia come è stata importante anche per lui vi ricordo che eh la fotografia per il green come per tutti i foto editor vuol dire anche una ricerca incessante una una ricerca della cultura un continuo aggiornamento e eh per darvi un'idea la biblioteca di Milcare Pompielli donata al museo di fotografia contemporanea di Cinisello consta di ben 1200 volumi. Questo vi dimostra la portata dello studio di Milcare Pompielli e di tutti i foto editor. Che cos'è la fotografia per il green? È appunto il premio a Milcare Pompielli calcolate che ogni anno arrivano circa 200 lavori quindi vi dà l'idea della della dell'importanza di questo premio. Eh la fotografia per il green è eh prima visione questa bellissima collaborazione che abbiamo con la galleria di Maurizio Zanuso e eh di eh Rosanna Schirer dove ogni anno pubblichiamo eh esponiamo quaranta quaranta cinque foto di Milano che vengono eh scattate l'anno precedente. La fotografia per il green sono le letture dei porfoli ovviamente in questo periodo di pandemia ci siamo un attimo fermati però ricominceremo. Sono i convegni sulla fotografia, i talks, gli incontri, le videoconferenze ed è la sinergia con rete fotografia che come ha già spiegato il nuovo presidente Anna Quistapace e eh gli archivi fotografici ma anche il convegno che si eh ogni anno si eh svolge ad ottobre. E poi sono le interviste, le curatele eh vi anticipo una cosa molto bella che faremo sul nostro sito. Tutti i foto editor intervisteranno i fotografi che hanno ehm vinto il premio Ponchielli. Quindi noi foto editor del green intervisteremo a turno i nostri grandi autori. E quindi e poi sono i viaggi nei più grandi festival del mondo. Insomma il e diciamo la video e la fotografia tutto tondo per il green è molto significativo. Naturalmente richiede sempre molta competenza e una voglia di crescere continua e incessante. Ripasso la parola a Anna a questa grazie Maria Teresa. Eh no io vi vorrei raccontare invece eh un po' di ehm futuro di ehm tendenze perché è un po' quello che ci chiediamo tutti i giorni. Anzi negli ultimi anni eh come associazione ma soprattutto come persone ci siamo trovati eh di fronte alla necessità di ripensare un po' il nostro ruolo e quindi la nostra missione all'interno del green con un occhio quindi rivolto verso il futuro. Perché il mondo dell'editoria per come l'abbiamo conosciuto è cambiato notevolmente eh l'avvento del digitale ha ne ha rivoluzionato le regole. La fotografia però è più presente e più viva che mai eh pensate solo che eh nel mese scorso no nel aprile duemilaventuno solo su Instagram sono stati caricati cento scatti al secondo una mole di immagine mh micidiale e eh la storia della fotografia non ha mai smesso di dimostrarci la potenza che hanno le immagini perché le immagini possono cambiare una storia possono sensibilizzare possono emozionare eccetera eccetera quindi come green è diventato per noi indispensabile ehm ridefinire il nostro ruolo di professionisti mettendo al centro le nostre competenze e offrendo visibilità eh e strumenti di lettura per il lavoro di quei fotografi e quei reporter insomma quei professionisti che fanno delle arti visive il loro lavoro quotidiano. Siamo in un mondo iperconnesso, cambiano i canali, evolvono, ne nascono di nuovi e proprio per dare ehm un senso a questa complessità secondo noi è necessario prendersi il tempo. Il tempo per la ricerca, per l'approfondimento, per lo studio, per la creazione di una cultura fotografica. Eh secondo noi questi elementi saranno decisivi per garantire immagini di qualità che emergeranno quindi da questa invasione di immagini e che emergeranno anche rispetto a quelle immagini passatemi il termine, più di illustrazione, immagini che magari tecnicamente sono bellissime ma sono prive di significato, vuote di significato. Lo scorso anno eh il premio Ponchielli è stato vinto dal fotografo Gabriele Galimberti con il progetto eh The American Guns, un un reportage che racconta il tema delle armi negli Stati Uniti. Solo un racconto approfondito come quello che ha seguito Gabriele ha permesso eh di entrare in relazioni con queste persone che hanno queste armi in casa, di farsi aprire le porte delle loro case e di ritrarle in nel modo in cui ha realizzato appunto queste immagini e questo ci ha permesso di eh raccontare un fenomeno come quello appunto del porto d'armi negli Stati Uniti. Quindi come Green, come membri del Green il nostro prenderci cura della fotografia è un un lavoro ma innanzitutto una passione perché in un mondo sempre più complesso vogliamo cercare di eh offrire sempre più strumenti per rendere eh intellegibili, leggibili le storie eh fotografiche di qualità autentiche, storie che sappiano informarci, che possano aprire nuovi orizzonti, farci cambiare anche i punti di vista e prospettive e anche emozionarci. Sei d'accordo Giovanna? Sì, io sono assolutamente d'accordo e eh trasgredisco quello che è la sequenza che noi ci eravamo date perché il premio Ponchieli per noi del Green e in seconda istanza anche per un pubblico più allargato è assolutamente fondamentale perché è una vera fonte di aggiornamento. Il fatto come dicevamo prima che noi riceviamo quando eh viene lanciato il premio circa duecento progetti che devono essere costruiti e pensati per la pubblicazione su un periodico, su non importa quale strumento di trasmissione, di comunicazione, di informazione eh è un elemento per noi di aggiornamento professionale importantissimo. Tutte noi eh partecipiamo a una prima giuria che deve ridurre un po' il numero dei progetti da sottoporre poi a una seconda eh giuria che viene nominata diversa ogni anno e per noi è un arricchimento inenarrabile. Questa è la ragione per la quale noi siamo attaccatissimi a questo progetto e ci rendiamo conto che poi eh la sera nella quale noi presentiamo al pubblico i quindici finalisti l'attenzione è altissima. A questo punto noi l'abbiamo sempre fatto in luoghi fisici probabilmente ne parleremo nelle prossime riunioni, le prossime volte lo faremo anche non solo fisicamente ma anche allargandolo all'online. È uno strumento della della conoscenza della fotografia potentissimo quindi al quale noi siamo profondamente eh affezionati e è molto interessante perché dal primo concorso dalla dalla prima edizione del premio Ponchielli vinta da Alessandro Scotti con un bianconero intenso sulla distribuzione nel mondo delle droghe al lavoro messo in posa, costruito, ragionato da Gabriele Garimberti nell'ultima edizione del premio Ponchielli è passato un mondo lì dentro. Quindi l'idea eh che abbiamo avuto di intervistare tutti i vincitori nel corso del tempo è di in pratica è una mini storia degli ultimi diciassette anni della storia della fotografia. Quindi io credo che questo diventerà davvero un evento da seguire. Grazie. La conclusione è presidente. Sì, no no, se Maria Teresa vuoi aggiungere qualcosa. Ma e direi che abbiamo detto tutto, no? Anche un'ultima cosa. Il premio Ponchielli è un premio unico in Europa. Prima di tutto perché è un premio ehm diciamo promosso dai foto editor. Quindi è un premio unico in Europa fatto dai foto editor. Ed è eh un premio dove nella giuria finale ci sono sempre i direttori come presidenti, i direttori dei vari giornali, riviste, eccetera. Quindi sono passati i più grandi direttori italiani del eh dai quotidiani ai ai messili. E questa è anche un'altra caratteristica per me da sottolineare. Eh e oltretutto è anche un modo per capire come si creano delle nuove tendenze, no? Perché i vari presidenti hanno un pensiero diverso sulla fotografia. Chi eh dei quotidiani o chi dei mensili hanno un concetto diverso di fotografia e quindi è un continuo, è un continuo creare, è un continuo inventare, diciamo modulare la fotografia e anche questo è molto molto interessante ehm per quanto riguarda il green. Benissimo, grazie. Quindi aspettiamo i prossimi lavori e per il per il premio e grazie a tutti per l'attenzione. A presto. Grazie. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao.